grazie ragazzi per gli otto mila arriviamo a 10 ce la possiamo fare video notturno perché ancora non sonno capita anche a me spesso tocco il cuscino e boh 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 ma stasera non sonno anche perché c'è di quei pochi spermatozoi in giro che ho creato io che hanno mille iscritti fanno live con 20 persone canali con 8.000 iscritti tutti comprati che fanno live con 20 persone continuano ad attaccarci sono gli stessi che mettevano gli articoli della juve su piff no quanta piff la juve non come dite voi che a questi del leader non gliene frega nulla l'importante per loro per questi piccoli spermatozoi che soprattutto creato io perché è tutta gente poi alla fine ho aiutato e che mi sono ritrovato contro no per loro l'importante non è più l'inter è è che noi capito l'importante per loro è che noi falliamo ma falliamo secondo loro come cioè questi non hanno capito e se io parlo solo di calcio faccio molti più iscritti a parlare di proprietà forse voi non avete capito io se smetto di parlare di proprietà il canale va ancora più forte io non mi reggo sulla proprietà voi siete fuori voi o me ci siete già rimasti male più di una volta voi siete ridicoli non vi guarda nessuno su youtube mettavate gli articoli juve piff ora gli arabi avete avete detto che renzi ha detto che gli arabi non investono nel calcio italiano innanzitutto renzi non ha detto sauditi ma ha detto sauditi arabi tutti e c'è il video che lo testimonia questo già fa vedere la vostra cattiva fede perché per voi l'importante è smentire quello che diciamo noi il resto per voi non esiste più nulla visto e non vi date pace perché non vi segue nessuno perché vi segue nessuno perché non piacete non piacete ma ve l'hanno insegnato e quando non si piace anche alle donne bisogna girare pagina quanto pare voi no voi continuate rezi os ha detto ha detto i sauditi non gli interessa il calcio italiano renzi ha detto si è auditi arabi c'è il video che lo testimonia già qui siete smerdati e poi tra l'altro visto che agli arabi non interessa il calcio italiano renzi poi dopo veniamo a un'altra cosa si scorda una cosa che il 4 luglio del 2022 per la prima volta nella storia la quota di maggioranza di una società calcistica italiana è stata acquistata da un gruppo arabo il city football group guidato dallo sheiko mansur bin zayed al nayan ha infatti comprato l'ottanta per cento delle volte del palermo football club quindi gli arabi sono già dentro il calcio italiano da più di un anno renzi questo se l'hai scordato renzi ha detto agli arabi non interessa il calcio italiano ha detto ai sauditi renzi ha detto sauditi arabi allora io ho fatto un video ed è giusto precisare perché poi questi e poi ti ripeto passano gli articoli di piff juventus che parlano di invest corp che hanno parlato gli americani hanno siccome non la faccia come il culo dopo gli americani hanno parlato di invest corp e ora usano strumentalizzano l'intervista di renzi per dire che gli arabi non interessa il calcio italiano quindi sono talmente stupidi e si smerdano da soli praticamente ma sono talmente accenati dalla rabbia perché non piacciono perché non li guardano da nessuno che non pensano nemmeno a quello che fanno avete parlato di in the scope fino all'altro giorno ora passate il video di renzi e dice agli arabi non interessa il calcio italiano tanto non vi segue nessuno fate ridere innanzitutto renzo renzi non può fare portavoce dei sauditi cosa numero uno cosa numero due l'interesse dei sauditi verso il calcio italiano ormai è una cosa conclamata scritta anche da sole ventiquattro ore dalla repubblica quindi è una cosa che ormai è conclamata poi dopo lo vedremo chi sarà ad acquisire l'inter dall'altro io ho detto renzi dice arabi no nega la fiorentina perché renzi viene non accusato a renzi viene detto guardate volevi far prendere la fiorentina bin salman perché renzi ha dei rapporti lavorativi con bin salman no il conduttore di report indipendentemente dalla roba della fiorentina e ci sono i video che lo testimoniano dice che quando ci sarà dalla trattativa dei diritti della supercoppa che si gioca in europa il principe bin salman è interessato anche all'acquisto di un club di serie a quando ci saranno le trattative per i diritti della supercoppa e via discorrendo quindi chi è che dice la verità il giornalista di report o renzi tra l'altro sempre su renzi vi consiglio di leggere un articolo un giornale molto noto vi do il titolo che si chiama matteo renzi la strategia della bugia questo lo trovate andate su google digitate matteo renzi la strategia della bugia scrivete questo titolo e troverete un bellissimo articolo lo lo dico io è lo dice un noto giornale quindi vedi ragazzi cioè tanto è inutile continuatevi perché tanto c'è voi siete ridicoli capisci voi siete ridicoli non non piacete mettetevelo in testa non è colpa mia io ho cercato anche d'aiutarvi quei mille iscritti te li ho fatti fare io a te che continui a rompere i coglioni da due anni ma te fai schifo non sei buono a stare su youtube perché ora mi stai stancando sono due anni a rompere i coglioni quell'altro poi l'alcolizzato te uguale hai rotto i coglioni anche te capito hai cambiato 47 mila bandiere basta basta finitela fatela finita di rompere le scatole siete voi gli ossessionati perché qui nessuno vi considera io non vi considero più da più di un anno ormai non vi rispondo nemmeno più ma ditela voi la verità voi fate le live sui vocali perché non avete argomento rialzo non ci capite un cazzo non siete empatici non piacete andate a pescare non piacete fate altre robe ma ma poi siete così assatanati ma che cazzo ve ne frega a voi di quello che diciamo noi sui nostri voi siete inviti e non arrivano lo vedremo ma tutta sta bava alla bocca ma che cazzo vuole ma vi volete andare a curare o no ma che problemi avete se hai quel pochino di visibilità te l'ho fatta bene io e non sono nessuno ma di cosa ragione ma vai a correre ti fa bene vai a camminare e non rompere i coglioni vai passa gli articoli della juve che vuole piffa perché te sei un gobbo infatti basta negli articoli della juve perché te sei un gobbo ciao inter vai gobbo passa gli articoli della juve vai vai passa gli articoli della juve che vuole piffa vai poi dopo passi l'articolo di renzo e gli arabi non vogliono il calcio lo capisci e sei ridicolo sei un ridicolo ossessionato curati lavoraci su questa cosa vedrai alla fine ti passa tanto io non ti rispondo ufficialmente perché mi fai ridere